Il Giappone è uno di quei paesi in cui i crimini sono davvero pochi. Le persone si sentono al sicuro per le strade e non hanno paura di camminare da sole, anche di notte. Ma anche se è vero che si registrano pochi crimini, quelli che avvengono ogni tanto sono particolarmente agghiaccianti. Ciao, belli dei zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e rinchiudervi nelle vostre stanze, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Prima di cominciare, velocemente, ricordate che poco tempo fa avevo parlato di MyHeritage, il sito tramite il quale si può fare un test del DNA vero e proprio, che ti rivela la tua etnia, le tue origini e ti rivela anche i parenti lontani che hai sparsi per il mondo. È stato davvero fighissimo e super interessante, ma qualcuno di voi, in realtà tante persone, si sono lamentate del fatto che costasse un po'. In effetti costava 89 euro, che per il tipo di servizio sicuramente sono adeguati, però capisco che possono essere non idonei alle tasche di tutti. Ecco, ho una buona notizia, perché MyHeritage ha avviato una promozione per via della festa della mamma e mi ha dato la possibilità di offrirvi il test del DNA come quello che ho fatto io a solo 39 euro. Quindi per questa promozione, che durerà molto poco, potete andare nel link in descrizione o nel commento pinnato e quando ordinate il vostro kit di DNA e mettete il codice sconto ANDREW39 per accedere a questo prezzo decisamente molto scontato. Quindi niente, fatemi sapere se farete il test, fatemi sapere i vostri risultati. Io vi giuro, mi ero divertito un sacco a fare quel test, ho anche il video che si chiama il test di Lin nel canale, se volete vederlo, che lì spiego proprio come si fa il test e tutto quanto. Quindi, dopo questo video, se vi va, andate a vedere quello. E nulla. So che a molti di voi interessava farlo, ma non avevate la possibilità. Spero che almeno in questo modo sia diventato un po' più accessibile per più persone possibili. Detto questo, cominciamo davvero con il file di oggi. Abbiamo già avuto modo di parlare di qualche caso giapponese, ma quello di oggi, ragazzi, è particolarmente inquietante, ma anche importante. La sua storia ha influenzato il sistema giuridico giapponese, il che la dice lunga sull'impatto che ha avuto. Il caso si ambienta negli anni 90 e in quel periodo in Giappone non si parlava d'altro. Questa vicenda è stata uno scandalo mediatico enorme. Ci sono state file di persone indignate e urlanti che si sono riversate nelle stazioni di polizia. Il processo poi è stato seguitissimo e ancora oggi se ne parla sotto banco. Il Giappone, lo sapete, per me è una terra fantastica, piena di luci e ombre, e proprio le ombre lì fanno più paura che altrove. Il contesto dentro cui ci muoviamo oggi è il contesto scolastico. E già partiamo malissimo. Perché? Beh, perché ci sono molti video online, e non solo, di divulgatori o semplici appassionati, o addirittura giapponesi stessi, che criticano aspramente il sistema scolastico giapponese. Se volete approfondire basta fare una normale ricerca. Ma io mi limito a dirvi che in Giappone, secondo quanto si dice, cioè non lo penso io, riporto solo le cose che trovo online, comunque in generale dicono che il sistema scolastico faccia schifo. È stressante, tossico ed estremamente competitivo. Qualcuno di voi potrebbe dire a sto punto, vabbè anche in Italia la scuola fa schifo. E ok, sì, fa schifo, ma fidatevi che dalle cose che ho letto, in Giappone sotto molti aspetti è molto molto peggio. Servirebbe un video dedicato solo a questo per parlarne come si deve, quindi fermiamoci qua. Tanto torneremo a questo argomento più avanti nel video. Invece io oggi sono qui per parlarvi di uno studente giapponese in particolare, Shinichiro Azuma. Shinichiro nasce il 7 luglio 1982 a Kobe, in Giappone. La sua famiglia non è agiata, ma neanche poverissima. Tuttavia è piuttosto rigida con lui e gli impartisce un'educazione tradizionale, il che da quelle parti non è sempre un buon segno. Certi protocolli sociali, certe tradizioni e pressioni vengono tramandate di generazione in generazione e spesso creano asti, conflitti, frustrazioni e tantissimo stress. Vi basti pensare che la competizione a scuola e nel lavoro, che provoca molto stress, è uno dei principali motivi di suicidio in Giappone. Cioè non è come qui da noi. Qui i genitori da piccolo ti obbligano a lavarti i denti tutti i giorni, magari andare a messa, mangiare le verdure o cose così. Ma in Giappone è molto diverso. Parliamo di costrizioni di gran lunga peggiori e molto più severe. Costrizioni che riguardano spesso la scuola. E se già quel sistema spinge i bambini fin dall'asilo a competere fra di loro, alcune famiglie fanno anche di tutto per alimentare questa sorta di battaglia sociale. Cioè vista dall'esterno, sembra davvero molto molto difficile come vita. Perché si pretende che fin dall'inizio i figli siano non bravi, ma bravissimi a scuola. E in tutto. Ovviamente è quasi impossibile essere bravi in tutto. Ma anche qui c'è l'eccezione. Di tanto in tanto, in una scuola, qualcuno di bravo in tutto c'è davvero. E questo porta gli altri a dire Ah, visto? Lui è più bravo di te. Perché tu non sei così? Perché non sei come lui? Non sei bravo? Non sai fare niente? Immaginate sentirvi dire queste cose dai vostri genitori. Non deve essere facile. Ecco, il nostro Shin Ichiro nasce proprio in un contesto di questo tipo. Per un po' riesce a soddisfare le aspettative dei genitori, ma quando arriva alle scuole medie, i suoi voti si abbassano. E il motivo è perché sente sempre di più la pressione della sua famiglia. Sente che più andrà avanti, più sarà peggio. E i suoi amici confermano questo periodo molto turbolento. Sembra che nessuno possa aiutarlo o capirlo. L'unica persona che sembra volergli bene, davvero, nella sua famiglia, era sua nonna. E questo sentimento era ricambiato da Shin Ichiro. Anche lui le voleva bene, era come una sorta di amica per lui. Tanto che dopo tutto quello che succederà, il giovane conserverà solo la foto della nonna. Perciò, in età adolescenziale, Shin Ichiro vive una vita davvero difficile tra le pressioni sociali e quelle familiari. In quell'età già odiamo tutto a prescindere, ma per lui la faccenda è ancora più grave. Purtroppo, le prospettive di carriera lavorativa in Giappone non sono così allettanti. Shin Ichiro vede davanti a sé un futuro in cui sarà sempre pressato. Sempre di corsa a soddisfare aspettative altrui. Se adesso deve dar conto ai suoi genitori, un domani dovrà dar conto a un capo. Magari anche in un ambiente che non gli piace. Comunque non sono riportati particolari interessi in questo giovane Shin Ichiro. Per cui forse lui neanche aveva avuto il tempo di pensare di avere delle passioni. Vive in una città frenetica. È sempre di corsa. E l'idea che si è fatto della vita è molto molto triste. Una vita in cui si alza al mattino, studia e basta, in futuro lavorerà, e poi torna a casa a dormire e tutto ricomincerà da capo ancora e ancora. E questi pensieri, con il passare del tempo, purtroppo prendono in sopravvento. E tenete conto che sono tutte dinamiche che tuttora esistono e non solo in Giappone. Per cui molti giovanissimi si vedono costretti a una sorta di bivio. O scelgono una vita sacrificale in cui non possono fare nulla se non lavorare, oppure non fanno nulla appunto e basta. È l'esempio degli Ikikomori. Un fenomeno che in Giappone è molto presente. Infatti la parola stessa è proprio giapponese. Significa stare in disparte ed è un fenomeno che in realtà è presente un po' in tutto il mondo. Ma è stato descritto per la prima volta in Giappone dove ci sono stati oltre un milione di casi documentati. E il motivo, spesso, sono proprio queste dinamiche sociali che vi ho descritto. Gli Ikikomori in Giappone spesso vedono la vita come la vedeva Shinichiro. Quindi piuttosto che sottostare ad un sistema che prima o poi li avrebbe schiacciati, decidono di rinchiudersi in casa. Non escono mai. E evitano qualunque tipo di contatto diretto con il mondo, a volte anche con i familiari. E tutto questo può durare anni. Ecco, questa alternativa alla vita sociale, diciamo, porta comunque ulteriori ansie. Cioè, non è assolutamente una soluzione. Diciamo che Ikikomori è un po' drastica come situazione. Infatti alcune persone decidono semplicemente di non lavorare. Di pesare sulle spalle dei genitori. Perché, appunto, non vogliono sottostare al sistema lavorativo soffocante del Giappone. Ovviamente, ragazzi, si parla di una piccola percentuale. Non tutti i giapponesi decidono di non lavorare. Anzi. Quasi tutti si fanno un culo che neanche ci immaginiamo noi. Tralasciando questo, diciamo che il problema in generale c'è. Il sistema è frenetico e pesante. E Shinichiro sente tantissimo questa pressione. Anzi, in realtà, tutto questo è solo una minima parte delle turbe mentali di questo ragazzino. Perché in profondità, dentro di lui, c'è qualcosa di molto peggiore. Shinichiro adorava sua nonna. Ma era ancora piccolo. Andava alle elementari quando è venuta a mancare. Quindi, quando ha iniziato ad avere le prime difficoltà alle scuole medie, lei già non c'era più. L'unica amica che aveva, l'unica persona a cui voleva davvero bene, se n'era già andata e non poteva aiutarlo. In realtà, vi ho tenuto nascosto che era accaduto qualcosa anche prima delle scuole medie. La morte di sua nonna, infatti, è stata devastante. In quel momento, qualcosa in lui si è spezzato. Dentro la sua testa si è acceso qualche trigger. Qualcosa che da quell'evento in poi, lo ha cambiato in modo permanente. Raconterà in futuro che in quel periodo dopo il funerale, ha fatto qualcosa di davvero ambiguo e strano. Racconta che quel giorno è entrato nella camera di sua nonna. Ha preso il suo massaggiatore elettrico e, davanti alla tavoletta mortuaria, si è dato piacere. Il tutto, mentre guardava la foto di sua nonna morta. Spiegherà che in quel momento ha cercato di sentire la sua voce, il suo odore, il suo respiro. Si era, cito, emozionato tanto. Ha capito in fretta di aver fatto una cosa ridicola e disgustosa, ma per lui quello è stato un momento molto prezioso. Vi ricordo che era alle elementari, eh? Non ce lo dimentichiamo. Comunque, da lì, come detto prima, si accende qualcosa nella sua testa. O forse è meglio dire che si spegne qualcosa. Perché la sua empatia si azzera completamente. E sappiamo che cose orribili possono accadere in una situazione del genere. Vi avviso, vi metto un bel trigger warning. Perché oggi parleremo di cose davvero orribili, animali compresi. Quindi continuate ad ascoltare solo se ne siete pienamente consapevoli. Detto questo, da quell'età, fino all'adolescenza, Shinichiro toglierà la vita proprio a molti animali. Arrivando anche a torturarli senza pietà. Da questo momento comincia a fare delle cose davvero orribili e non risparmia nessuno di questi animali. Sono riportate vittime come rane schiacciate sotto la sua bici, gatti e piccioni dec***ati, lumache collezionate per poi essere sm***ate senza pietà e così via. Tutto questo addirittura lo eccita fisicamente. Infatti all'età di 13 anni circa sembra che abbia iniziato ad abusare fisicamente proprio degli animali. Dio mio, ma i genitori non se ne accorgono. Che cazzo. Comunque in tutto ciò tiene un bel diario segreto in cui annota tutti i suoi oscurissimi pensieri. Alcuni di questi li esterna anche con i suoi insegnanti. Ma a quanto pare non fanno nulla. Comincia persino a portare dei coltelli a scuola come se nulla fosse. Come detto prima la sua empatia sembra non esistere più e una delle sue note nel diario rende chiara la situazione. Dice che riesce a diminuire la sua frustrazione solo quando tiene un coltello in mano o quando fa roteare un paio di forbici tra le mani come una pistola. Da troppo tempo ormai non va molto d'accordo con i suoi genitori e a scuola non è più lo stesso. Viene sempre pressato affinché studi di più e porti a casa più risultati ma lui ormai non gliene frega niente. Non pensa più a questi obblighi. La sua psiche ormai è bruciata da un odio incontrollabile e non vuole essere pressato mai più. In alcun modo. Si chiude sempre di più in se stesso e diventa tra le altre cose proprio un Ikikomori. E direi che era quasi inevitabile visto quello che ha passato e quello che sta passando. I suoi rapporti col mondo esterno vengono notevolmente ridotti. Ma nonostante questo a differenza degli altri Ikikomori desidera ancora incontrare qualcuno. Peccato però che desidera farlo solo perché vuole togliere almeno una vita. Esatto comincia a stancarsi degli animali. Vuole passare agli esseri umani. Nel periodo in cui passa molto tempo a casa scopre alcune cose decisamente non adatte alla sua età. Legge riviste 8 e guarda film e anime molto spinti. E inizia ad appassionarsi proprio ai serial killer. Attenzione non al true crime o alle storie di cronaca nera. Si appassiona proprio ai serial killer. Tra le varie fonti si parla del fatto che avesse avuto sostanzialmente due killer preferiti. Ted Bundy e lo Zodiac Killer. Non ho mai parlato di nessuno dei due e forse dopo questo video lo farò. Comunque Shinichiro avrebbe tanto voluto essere come loro. Avrebbe voluto essere rispettato secondo lui per dei crimini. Come se quei due fossero persone rispettabili per i loro crimini. Cioè ha una visione un po' distorta dei serial killer. Ma comunque lui odia con tutte le sue forze il sistema scolastico. Un sistema che tanto lo aveva atturbato. Facciamo 2 più 2 e capiamo in fretta quello che sta per accadere. E ragazzi era quasi inevitabile. E' il 10 febbraio 1997. Due studentesse stanno tornando a casa dopo le lezioni alla Tomogaoka Junior High School. All'improvviso, completamente a caso, vengono colpite alla nuca da dei colpi di martello. L'aggressore purtroppo riesce a scappare prima che qualcuno riuscisse a vederlo. Fortunatamente e davvero per miracolo entrambe le studentesse riescono a sopravvivere. Seppur riportando danni fisici ed emotivi gravissimi. Non abbiamo altre informazioni su questo evento. Ma sappiamo che non è stato l'unico in quel periodo. Sempre nella stessa scuola della città di Kobe, il 16 marzo, viene colpita anche la studentessa Ayaka Yamashita. Di soli 10 anni. Questa volta con una mazza. O di nuovo con un martello a seconda delle fonti. L'aggressore l'aveva portata in una zona isolata. L'aveva ringraziata. E a tradimento l'aveva colpita violentemente. A seguire un'altra studentessa di 9 anni, Kazumi Ishikawa, viene aggredita solo 10 minuti dopo Ayaka. Kazumi però viene addirittura pugnalata all'addome con un coltello molto affilato. Ayaka, la prima, subisce una contusione cranica. Una condizione che la costringe in coma per 10 giorni. Dopodiché, lascia questo mondo. Ayaka non ce l'ha fatta. Kazumi invece, la ragazzina pugnalata, riesce a sopravvivere per miracolo. La lama del coltello si era fermata appena prima di romperle l'arteria spinale. E lei, a differenza delle altre, era anche riuscita a vedere il volto del suo aggressore. Ma malgrado questa apparente lucidità, le sue informazioni appaiono comunque confuse. Gli investigatori capiscono che in queste 4 aggressioni, c'è dietro la stessa persona. Pensano che sia un uomo robusto sulla Trentina. E avanzano l'ipotesi che possa trattarsi di un Ikiko Mori. Anzi, sono convinti di questo e sono determinati a trovarlo perché una delle 4 ragazzine è morta. Si parla di un criminale, un assassino da trovare ad ogni costo e il prima possibile. Perché stava attaccando delle studentesse davvero piccole. Persino degli esperti nel settore sono assolutamente convinti di cercare un uomo adulto. Un uomo che però si comporta un po' come un bambino. Un bambino molto deviato. Non hanno la più pallida idea di quanto sia sbagliata la loro ipotesi. Perché come immaginerete, il reale responsabile è proprio Shinichiro. Il ragazzino sta avverando gradualmente tutti i suoi sogni. Sta trovando eccitante prendere in mano la vita degli altri. Tra l'altro è stato anche molto furbo a non farsi beccare. E ora può agire indisturbato. Perché tanto veramente nessuno sospetta di lui. Magari, dato il suo comportamento, qualche coetaneo aveva già intuito qualcosa. Ma nulla di che. Ricordiamoci che siamo in un contesto rigido, dove si pretende un rispetto assoluto e una rigidità davvero ragazzi non da poco. Per cui anche sospettare del prossimo potrebbe essere un affronto. E di conseguenza un pensiero da non far trapelare in nessun modo. I giapponesi, lo sapete, sono rinomati per essere un popolo fin troppo gentile. Ma purtroppo la società ha anche queste contraddizioni. Per cui anche se qualcuno magari ha un vago sospetto, lo tiene per sé, esternarlo sarebbe un affronto troppo grande. Intanto Shinichiro ha praticamente campo libero. Può fare quasi tutto ciò che vuole al momento e di conseguenza le note sul suo diario personale diventano più terribili. Direi anche angoscianti. Adesso è il ragazzo che ha circa 14 anni crea una sorta di divinità tutta sua. Una sorta di mostro tentacolare con una testa di Buddha fluttuante. Addirittura lo disegna e chiama questa figura Bamoidokshin. Una sua nuota dopo queste quattro aggressioni recita Al mio adorato Bamoidokshin. Oggi abbiamo condotto un esperimento sacro per confermare la fragilità degli esseri umani. Ho deciso di tenere questo diario come memoriale. Ho abbassato il martello quando la ragazza si è voltata verso di me. Penso di averla colpita un paio di volte, ma ero troppo eccitato per ricordare. Ti ringrazio Bamoidokshin per questo. Per favore continua a proteggermi. Non è chiaro se scrivesse spesso a questa presunta entità, ma è chiaro che tutto ciò non fa altro che peggiorare la situazione. Nessuno sa quello che sta facendo e nessuno può neanche lontanamente prevedere quello che farà. Infatti il 24 maggio 1997 Shinichiro esce con la sua bicicletta per cercare la sua nuova vittima. Questa volta vuole fare il colpo grosso. Il colpo che lo farà diventare alla pari dei suoi famigerati idoli. È il giorno giusto e purtroppo trova anche la vittima giusta. Si tratta dello studente di 11 anni, Jun Hase. Shinichiro conosceva già Jun e sapeva che era un tipo sempliciotto e un po' credulone, perfetto per lui. Lo incontra casualmente per strada mentre sta camminando da solo e per i fatti suoi. Il giovane killer pensa subito che sia un bersaglio perfetto e decide di voler approfittare di lui. Gli chiede di seguirlo in un posto non troppo lontano da lì, perché in questo posto misterioso gli dice che ci abita una tartaruga. Jun va matto per questi animali, così si fida e segue Shinichiro senza farsi troppi problemi. I due ragazzini salgono su per una collina passando da una grande scalinata che Shinichiro chiamava scale di cioccolato, perché in effetti la forma ricorda delle barrette di cioccolato. I due comunque percorrono la salita e raggiungono una grossa antenna televisiva. In quel punto, da soli, senza nessuno a guardare, Shinichiro strangola a morte il povero Jun. Per farlo usa un laccio delle scarpe. Una volta riuscito a togliere la vita al ragazzino, Shinichiro nasconde il corpo in una struttura lì vicino alla grossa antenna. E presto quel posto diventa, per un po', la sua fortezza degli orrori. Perché? Beh perché ci torna poco dopo, con una sega in mano. Io non ho la più pallida idea di dove l'abbia presa, magari l'aveva preparata prima, perché mi sembra strano che sia tornato a casa a piedi a prenderla. Cioè, nessuno poi ha visto un bambino in giro con una sega in mano, non lo so. Comunque, quel che fa è infierire sul cadavere. E lo riduce in uno stato, a dir poco, orribile. Proprio come faceva con gli animali. Vi avviso questa parte è molto brutta. Gli taglia varie parti del corpo, poi gli toglie letteralmente gli occhi per prendersi la sua anima. Dirà così in futuro, commentando il crimine. Cerca anche di togliergli la lingua per portarsela a casa come souvenir. Ma a causa del rigor mortis non ci riesce. Ma non si limita solo a questo. Solo. Dio mio. Gli taglia anche parte della testa, rompendogli la mascella e aprendogli così la bocca in modo innaturale, da un orecchio all'altro. Poi ragazzi, cavolo, è assurdo. Dopo tutto questo... Gli eiacula sopra. Ma ancora non ha finito. Ci gioca ancora un po' e infine beve anche il suo sangue. Spiegherà in futuro di aver bevuto il sangue della vittima perché il suo era sporco. Bevendo quello di Jun, quindi è come se lo avesse ripulito. Che atrocità ragazzi. E ricordiamoci che in tutto ciò Shinichiro ha solo 14 anni. Ma non finisce qui purtroppo. Il 14enne lascia il torso del povero Jun in quel luogo ormai maledetto. E il suo crimine giunge al termine qualche giorno dopo. Con una disgustosa dimostrazione di superiorità. Cioè ragazzi, vi ho raccontato in passato storie di killer molto giovani. Come la figlia del diavolo molto recente. Ma anche lei, per esempio, che le persone pensano sia il male in persona per come si comportava. Non ha fatto tutte queste cose. Cioè lui è molto più violento. È stato davvero tanto più... Sadico. Ha infierito. Molto. Ma appunto non è finita qui. E io mi sto incazzando. Passano tre giorni. Tre giorni in cui Jun risulta scomparso. E tre giorni in cui Shinichiro passa tutto il suo tempo con la testa della vittima. Anche qui non so dove e non so come. E forse non lo voglio neanche sapere. Sta di fatto che il 27 maggio 1997. Il custode della Tomogaoka Junior High School. Va verso il cancello della scuola per aprirla agli studenti. È giustamente preoccupato per le cose spiacevoli che sono successe. Come tutti in quel distretto. Immaginate, ci sono stati quattro aggressioni a quattro ragazzine. E una di loro è morta. E ora un undicenne è scomparso in circostanze misteriose. Cavolo, si percepisce tanta tensione nell'aria. Il custode quindi va a lavoro in quella scuola. Si è perturbato. Ma non fa neanche in tempo ad aprire il cancello che nota qualcosa annidato per terra appena fuori dall'ingresso principale. Si avvicina e guarda più attentamente. Appena capisce cos'è, un brivido gli attraversa tutta la schiena. Ci sono dei resti di gatti sparsi a terra. Poco più in là trova qualcosa di ancora più raccapricciante. La testa dell'undicenne Jun Hase. Il ragazzo scomparso tre giorni prima. Il suo viso è totalmente sfregiato e ha delle X incise sulla pelle. Dentro la sua bocca, che era stata aperta da un orecchio all'altro, c'è un foglietto. Un biglietto scritto con un inchiostro rosso che recita. Questo è l'inizio del gioco. Provate a fermarmi se ci riuscite. Stupidi poliziotti. Ho una voglia disperata di vedere muovere la gente. Per me è un brivido uccidere. Serve un giudizio sanguinario per i miei anni di grande amarezza. Appena sotto viene riportata una sorta di parola sgrammaticata in inglese. Shul kill. Con la parola school, scuola, scritta male, senza la c. La particolarità di questo messaggio orribile è il fatto che Shinichiro si è firmato con uno pseudonimo. Un nomignolo che lo renderà tristemente conosciuto in tutto il mondo. Ovvero, Sakakibara Seito. Da qui in poi è così che lo chiamerò. Sakakibara Seito. È un soprannome molto strano. La prima parte è un normale cognome giapponese, scritto tuttavia con ideogrammi inusuali. Saka, letteralmente, vuol dire sake. Ki, invece, vuol dire demone. E bara significa rosa. Il nome Seito, infine, è composto da sei, ovvero santità, e da to, che ha vari significati. Da notare comunque che Seito è anche traducibile come studente, se scritto con ideogrammi diversi. Insomma, ha avuto modo di crearsi la sua identità da serial killer, forse ispirato dai crimini che adora. Di sicuro pensa che chiamarsi Sakakibara Seito lo renda un figo, come se fosse utile e iconico chiamarsi così. Ma comunque la notizia di questo ritrovamento sciocca davvero tutti in città. E non solo in città. Per circa una settimana vivono tutti questo clima di terrore. Perché ragazzi, si tratta di una scoperta davvero raccapricciante. Cioè, che cosa fareste se lavoraste in una scuola e prima di aprirla per gli studenti trovaste una cazzo di testa? Cioè, è ovvio che in quel periodo ci fosse un panico generale. Ma poco tempo dopo, il 6 giugno, Sakakibara manda una lettera, sempre scritta in rosso, a un giornale locale. Sarà la prima di molte. Questa in particolare però è una lettera aperta al mondo intero, nella quale il colpevole rivendica tutti i crimini avvenuti da quelle parti e in quel periodo. Quindi le quattro aggressioni e le due morti, quelle di Jun e di Ayaka. Fa un discorso molto lungo in cui mostra tutto il suo odio nei confronti del sistema scolastico, dicendo che a causa di questo sistema è diventato invisibile. Chiama i poliziotti verdure, tipo il nostro dispregiativo broccolo, che indica una persona stupida, sciocca. Dice anche che commetterà altri crimini più avanti e che non verrà mai catturato. I media giustamente diffondono anche questa notizia e lo rendono conosciuto in tutto il Giappone. Quindi, Shinichiro, ovviamente è al settimo cielo. Sta vivendo il suo sogno più oscuro e macabro. Capita però che qualche emittente sbagliasse il nome e si rivolgesse a lui con un appellativo diverso, come Onibara o Demon's Rose. Lui vedendo questi errori si arrabbia così tanto che spedisce un'altra lettera. D'ora in poi, se sbaglierete ancora il mio nome, ucciderò tre verdure a settimana, cioè tre poliziotti. Se credete che io uccida solo bambini, vi state sbagliando di grosso. Chiudo le virgolette. Ora quindi ragazzi, è guerra aperta tra le autorità e Saki Kabara Seito. Si crea una situazione di stallo tra i media. Per un po' di tempo ci sono pochi aggiornamenti sul caso, ma ciò è dovuto al lavoro che sta facendo la polizia dietro le quinte. Quest'ultima è in grado a risalire a un sospetto, ma solo grazie all'aiuto di Kazumi Ishikawa, ovvero l'ultima sopravvissuta del killer. È solo grazie a lei che finalmente si ha un identikit preciso del colpevole. Lentamente il suo volto sta venendo a galla, di fatto andando a distruggere l'ipotesi che si trattasse di un uomo grande e grosso sulla trentina. Purtroppo non è chiara la modalità, ma alla fine riescono a catturare il famigerato Sakakibara Seito. E scoprono che si tratta proprio del nostro problematico quattordicenne, Shinichiro Azuma. Per anni i media non hanno detto il suo vero nome, credo perché era minorenne, comunque ci si rivolgeva a lui con il suo pseudonimo, o come Boy Ei, ragazzo A. Non mi fittizi insomma, ma ormai sappiamo che Sakakibara Seito è Shinichiro. Alla notizia del suo arresto, la stampa impazzisce. Ci sono riprese video che mostrano giornalisti pronti a catturare ogni informazione possibile, centinaia di persone indignate che assalgono la stazione di polizia, e altre tante che hanno le telecamere puntate sulla casa dell'ultima vittima, Jun, con l'obiettivo di riprendere la reazione dei suoi genitori mentre vengono informati degli sviluppi del caso. E questa la trova una cosa abbastanza di cattivo gusto. Ma vabbè, il ragazzino, una volta arrestato, confessa tutto. E presto viene dimostrato che era effettivamente lui lo scrittore di quella ghiaccianti lettere. Qui però il ragazzo, durante l'interrogatorio, sembra cambiare. Il dialogo avuto con il poliziotto in quella stanza deve avergli cambiato la vita in qualche modo. Un po' come è stata la morte di sua nonna, molto probabilmente questo evento lo ha segnato. Infatti, quando il detective gli sbatte davanti il fascicolo del caso, Shinichiro piange per la prima volta pensando ai suoi crimini. Forse si è finalmente reso conto che il suo macabro mondo di fantasia è diventato realtà e ora deve pagarne le conseguenze. Passa quella notte in cella, una notte che ricorderà per tutta la vita. Dirà che si era sentito malissimo e userà metafore particolari per descrivere quei momenti. Momenti in cui i denti gli tremavano e si sentiva morire. Forse finalmente ha compreso il significato reale delle sue azioni, ma è troppo tardi. E ora ha paura di essere condannato a morte. Ma gli assicurano che, vista la sua giovanissima età, non verrà mai condannato a morte. Questo non vuol dire che lo lasciano libero. Anzi, viene mandato però in un riformatorio di Tokyo. E così per un bel po' la situazione si congela. Un'intera comunità è scioccata, disgustata e terrorizzata dai suoi crimini. Molte persone lo vogliono morto, ma sanno che non saranno accontentate. Adesso in realtà pare che abbiano abbassato l'età minima per essere imputabili. Al momento di questi eventi era di 16 anni, ma ora si è abbassata 14, ovvero proprio l'età che aveva Shinichiro. Comunque al tempo era di 16 e lui era troppo piccolo per una condanna del genere, ma questo fa capire che, proprio dopo il suo caso, il sistema giuridico ha cambiato alcune norme. Ma ancora una volta, devo dirvi che la storia, ragazzi, non finisce qui, purtroppo. Ci sono ancora delle cose da dire su Shinichiro. Cose accadute dopo la sua condanna e dopo i delitti. È l'11 marzo 2004 e il ragazzo viene rilasciato in libertà vigilata. Riacquisisce poi la piena e totale libertà nel 2005. E questa notizia fa scoppiare tantissime polemiche. Ma la struttura presso cui era detenuto conferma che Shinichiro ora è guarito ed è pronto per tornare nella società. Ma per moltissimi è semplicemente impossibile. Le critiche mosse da tantissimi indignati faranno scalpore per molti anni a seguire. Tanto che sotto sotto ancora oggi si parla di questa storia. Anche perché solo di recente abbiamo avuto tante informazioni, un po' come il suo vero nome. Fino a poco tempo fa non si sapeva che si chiamasse Shinichiro. Il caso infatti si accende, anzi direi che si infiamma proprio nel 2015. Quando in maniera del tutto improvvisa in Giappone tra gli scaffali delle librerie spunta il suo libro, la sua autobiografia. Questo libro ragazzi vende tantissime copie. Sono serio, diventa un best seller in quegli anni. Poi sparisce completamente nel nulla una volta svuotati i magazzini. Ma da quelle pagine, si dice, trapela una versione dei fatti sicuramente interessante, ma molto, molto disturbante. Certi dettagli fanno veramente ribrezzo. E alcuni di questi ve li ho anche riportati nel corso del video. Come il fatto che si fosse masturbato davanti alla foto della nonna. Cosa che prima del libro non si sapeva. Ha comunque mostrato grande rimorso nelle sue pagine, ma sostanzialmente nessuno gli ha creduto. Ha anche inviato delle note personali di scuse e cordoglio alle famiglie delle vittime, ma nessuno gli ha mai risposto. Anzi, il padre di Jun, per esempio, ha mostrato tutto il suo disappunto per questa faccenda del libro. E ha protestato affinché nessun criminale potesse avere successo in questo modo. Perché sì, Shinichiro ha guadagnato un sacco da quelle vendite. Anche il padre di Ayaka, la prima vera vittima del ragazzo, ha cercato di contrastare il successo del libro di Shinichiro. E l'ha fatto pubblicando il suo di libro, in cui raccontava la ghiacciante vicenda di sua figlia. La triste morte a cui è dovuta andare incontro per colpa del killer. Ma ad ogni modo, Shinichiro, ora, è un uomo comune, che a quanto pare fa il meccanico. Ma la cosa spaventosa è che non si sa dove sia, né che nome abbia. Mi ricorda particolarmente la fama di Seisagawa, che per un periodo molto lungo era famoso in Giappone, e addirittura ammirato. Avevo anche fatto un video su di lui. Se non l'avete visto ve lo lascio qui, da qualche parte. Qui. E la cosa strana è che nel video parlavo appunto del fatto che quel cannibale e killer fosse libero e famoso in Giappone. E appena ho fatto il video, proprio appena ho finito di montarlo, ho scoperto che era morto. Cioè, è morto proprio quando ho finito di montare il video. Cioè, ne ho parlato in un video, denunciando il fatto che non sarebbe dovuto essere famoso, e lui subito dopo è morto. Una coincidenza davvero assurda che un po' mi ha spaventato. Quindi ecco, se capita di nuovo la stessa cosa, e scopriamo che dopo questo video, cioè dopo che ne parlo io, Shinichiro muore, potrei spaventarmi davvero. Cioè, mi sentirei colpevole. Che cazzo. Per quanto abbia fatto cose terribili, ovviamente, cioè, non gli auguro la morte. Però ecco, credo che anche nel suo caso non dovrebbe essere libero. Dovrebbe scontare una pena molto molto più severa. Ma comunque sto divagando. Tornando a noi, sappiamo che Shinichiro ha fatto qualcosa su internet. Una fonte riporta che ha creato una sorta di sito web dove... Boh, ha fatto robe. Non credo ci siano altri termini per spiegare quello che ci ha messo dentro. Sono per lo più fotomontaggi strani che dovrebbero avere una sorta di significato, almeno per lui. È difficile trovarlo, diciamo. E già da piccolo, come sapete, in effetti aveva disegnato quella sorta di divinità con cui parlava nel suo diario. Per cui magari questa sua cosa gli è rimasta e l'ha espressa adesso tramite questo sito sul web. Ora comunque dovrebbe essere un uomo sulla quarantina e gira liberamente, effettivamente come nulla fosse. Alcuni online riflettono sul fatto che lui in realtà non avesse mai provato reali emozioni. Che fosse uno psicopatico omicida con mania di grandezza. Il tipo di persona che vuole essere visto a tutti i costi. Potrebbe essere anche così se consideriamo l'ultimo delitto. Il fatto che fosse un Ikikomori poi non lo ha aiutato di certo. Però aspettate, non tutti gli Ikikomori sono dei criminali, anzi. Il fatto che fosse così non vuol dire che per forza doveva uccidere. Ci tengo a specificare questo. Shinichiro lo ha fatto, ma per tanti motivi. La verità è sempre complessa e non piace a molti, ma sono stati diversi i fattori che lo hanno portato a compiere quelle gesta. Orribili. Forse sì, si sarebbe potuto evitare, ma personalmente trovo inutile piangere sul latte versato. Piuttosto sarebbe meglio discutere sul problema alla radice di tali atteggiamenti, che non sono altro che delle conseguenze. Capitemi. Vi invito a discuterne con me qui sotto, perché stavolta c'è davvero tanto di cui parlare. E questo problema della società pressante non c'è solo in Giappone. Anzi, anche in Italia, tra l'altro, ho scoperto che i casi di Ikikomori aumentano. Sono aumentati. Stanno aumentando. Facciamoci due domande. Comunque, intanto, per i pochissimi fedeli che rimangono fino a qui, anticipo che dal Giappone la prossima settimana torneremo in Italia. È da tantissimo che non parlo di un caso italiano e giustamente voi continuate a chiedermelo, per cui spero che rimarrete nei paraggi. Se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!